cani da guardia o cani socievoli spesso ci sono persone che quando prendono dei cani con caratteristiche da guardia vorrebbero che fossero anche socievoli oppure s'aspetterebbero che nel momento in cui c'è un problema magari una persona sconosciuta si presenta nel giardino di casa oppure il cane scappa dalla casa o si trova libero quel cane sapesse distinguere una persona che non fa nulla da una è pericolosa e tuttavia non è così ci sono cani che hanno caratteristiche forti per la guardia come alcuni cani pastori conduttori ma ci sono anche anni da protezione come come il pastore maremmano in montagna dei perenei e ci sono cani da difesa come rottweiler il dobermann poi abbiamo altri cani che possono essere i cosiddetti cani da guardiania da cui ci può essere anche sempre lo stesso maremmano abbiamo il canga il caos ed altri cani poi ci sono cani che hanno un consenso territoriale di protezione come pitbull hamster ed altri insomma ci sono varie categorie e non è possibile avere cani socievoli se questi cani sono tenuti isolati ed è proprio l'uomo che per tanti anni ha tenuto i cani più isolati proprio perché facessero paura fossero cani temibili per la guardia oggi ci sono delle leggi e comunque ci sono tanti cani ed è sbagliato lasciare questi cani con caratteristiche di guardia protezione difesa guardiania eccetera soli isolati chiusi nei giardini nei box o oppure isolati dalle persone che se ne vanno via e magari anche con protezioni recinzioni non adeguate alla caratteristiche di questi cani ed aspettarsi improvvisamente diventino socievoli le tragedie le disgrazie sono dietro l'angolo e spesso ci sono persone che prendono questi cani e che li tengono così e danno un approccio a mio parere superficiale e questo è sbagliato perché poi in caso di aggressione o di presentazione di uno sconosciuto un uomo un bambino un ragazzo qualcuno che corre le tragedie possono essere dietro l'angolo si possono avere ferite molto gravi fino a arrivare alle uccisioni per cui bisogna avere buon senso prima di prendere questi cani e magari farsi aiutare da chi è nel settore quindi da un educatore cinofilo comportamentale un istruttore cinofilo comportamentale esperti di abilitazione in modo da fare percorsi consapevoli per sapere come gestire e tenere questi cani ed evitare che sorgano aggressioni e soprattutto poi anche tutelare le persone quindi donne bambini e strumani gli animali ed evitare poi anche che questi stessi cani che le persone hanno adottato da guardia difesa o protezione facendo questa aggressione poi siano a rischio di soppressione e quindi i primi che poi ci rimettono sono questi cani oltre alle persone che possono subire delle lesioni e a volte essere uccise questo va poco bene per cui ci vuole consapevolezza e farsi aiutare ciao io sono stefano pesci istruttore educatore cinofilo comportamentale specializzazione norvegese nella risoluzione problemi nel comportamento del cane nel benessere del cane ideatore del metodo toghera dog e lei c'era un cane insegnante il mio sito internet www istruttore cinofilo punti t ciao attenzione e consapevolezza